Il nuovo acquistiverdi.it è stato presentato a Rimini alla 14esima edizione di Ecomondo, un giorno di svolta per il portale dei prodotti ecologici, che da 5 anni promuove la loro diffusione sul mercato italiano pubblico e privato. Il portale acquistiverdi.it compie in questi giorni 5 anni. È stato ideato nel 2005 e da allora ha fatto tanti progressi come utenti, visitatori, ma sicuramente la rivoluzione che presentiamo oggi è il passaggio più importante. Da oggi acquistiverdi.it diventa 2.0, ovvero ci apriamo ad una maggiore interazione con gli utenti, ma speriamo soprattutto che questa interazione sia tra gli utenti e le aziende che producono prodotti ecologici, affinché questo scambio di informazioni e di conoscenze faccia sì che il mercato migliori sia come qualità che come qualità di prodotti in circolazione. Oltre all'interazione, una grande novità è la segmentazione dei nostri target. Abbiamo creato 3 distinte home page, una destinata ai responsabili degli enti pubblici che fanno GPP, quindi Green Public Procurement, una destinata ai consumatori che nella vita di tutti i giorni fanno scelte di consumo sostenibili e solidali, ed un'altra infine invece dedicata alle aziende sia che producono prodotti ecologici o che sono interessate ad acquistare prodotti e servizi ecologici. Nato nel 2005 da un'idea di punto 3, acquistiverdi.it è adesso online nella sua versione 2.0, creata grazie alla collaborazione con IntelliWeb, software company specializzata in data mining e business interno. Questo nuovo sito si apre alle opportunità del web 2.0, dando la possibilità agli utenti di aumentare le interazioni con la creazione di una community e aumentare le interazioni anche con le aziende, con la possibilità di lasciare commenti o feedback sulle schede prodotto presenti nel catalogo. Per realizzare il sito abbiamo utilizzato Drupal, che è un CMS open source usato da centinaia di migliaia di persone nel mondo per creare siti internet, al vantaggio di essere open source appunto quindi sostenuto da una comunità di programmatori che continuamente mettono a disposizione il loro tempo per mantenere aggiornato e sicuro questo CMS e allo stesso tempo anche gratuito. La collaborazione con Punto3 nasce grazie al consorzio Spinner che aiuta l'avvio e la nascita delle nuove imprese basate su innovazione tecnologica. In rappresentanza delle istituzioni patrocinanti hanno partecipato all'evento di inaugurazione Emanuele Burgin, presidente del coordinamento Agende 21 Locali Italiane e Giovanni Triviani di PFC Italia. Per gli enti pubblici e in particolar modo per gli enti locali la sostenibilità è un obiettivo fondamentale. Ci sono strumenti che legano questo obiettivo alla riduzione delle emissioni, Chioto, 2020-20, impatto dei sindaci. Occorre fare un salto di qualità, passare dall'idea delle emissioni da ridurre intese come il prodotto dei tubi di scappamento o dei camini, alla valutazione dell'intero ciclo di vita di un prodotto, da quando viene creato, quando viene buttato via alla fine degli innumerevoli riutilizi che si possono fare. Questo è il concetto del Life Cycle Assessment ed è su questo terreno che gli acquisti verdi danno un di più che ci aiuta a perseguire gli obiettivi che l'Europa ci dà e in ultima analisi a mitigare l'evoluzione verso il caldamento globale che ormai tutti quanti che conosciamo non è più una fantasia o una fissa di qualche scienziato massimo. La collaborazione tra PFC e Punto 3 nasce da una comunione di intento ovviamente. Abbiamo fatto una rifinatura iniziative di Punto 3 perché crediamo nella necessità di fare informazione, fare comunicazione sulle buone pratiche di acquisto. PFC Italia, lo standard PFC certifica la buona gestione delle foreste e la filiera di trasformazione dei prodotti forestali. Questi verdi deve arrivare, riesce ad arrivare a comunicare alle pubbliche amministrazioni, ci va in modo, il significato di fare a questi verdi, a questi sostenibili. Quindi la comunione di intenti c'è, la volontà di appoggiare l'iniziativa di Punto 3 a questi verdi nasce da questa esigenza di comunicare. Quindi la PFC Italia crede a un'azienda di iniziativa di acquisti veri, quindi dare un servizio alle aziende, alle pubbliche amministrazioni ma anche ai consumatori per poter trovare quegli prodotti che possono freggiarsi del logo PFC e quindi anche la certificazione del PFC. Il coordinamento Agenda 21 locali italiane che per lo tempore presiedo, sono contentissimo di presiedere, è un network di oltre 400 enti locali comuni, provincia e regioni che raggiunge quota 500 con i soci sostenitori e che di fatto rappresenta il gruppo di punta degli enti locali italiani sulla versante della sostenibilità, sostenibilità intesa come ambientale, sociale e economica. E quindi gli acquisti verdi sono per noi un tema cruciale, uno dei tanti perché le emissioni vanno ridotte nel loro complesso, nell'intero circolo di vita del prodotto. Dunque acquisti verdi, benissimo tutto quello che si mette in moto, crea conoscenza, genera sapere, condivisione dei saperi su questi terreni e quindi il portale acquistiverdi.it è per noi un esempio di eccellenza che siamo contenti di patrocinare e a cui auguriamo una lunga vita di successo.